Per soddisfare Dio, hai bisogno dello Spirito Santo. Re sola ha ucciso 85 sacerdoti di Dio per amore di Davide. Re sola ha ucciso 85 sacerdoti di Dio per amore di Davide. Egli ordinò anche la completa distruzione della città che ospitava i sacerdoti. Il brutale re razionalizzò che i sacerdoti di Dio sostenevano Davide nella rivolta contro di lui. Le scritture riportano come il re sola attaccò i servi di Dio, Allora Saulo gli disse, sacerdote Aimelec, perché hai cospirato contro di me? Tu e il figlio di Iesse, in quanto gli hai dato pane e spada, e hai chiesto a Dio per lui, perché si sollevasse contro di me, per aspettare, come è oggi. Allora Aimelec rispose al re e disse, e chi tra tutti i tuoi servitori è fedele come Davide, chi è il genero del re, chi va al tuo comando ed è onorevole nella tua casa? Ho allora cominciato a chiedere a Dio per lui, lungi da me, che il re non imputi nulla al suo servo, né a nessuno nella casa di mio padre. Perché il tuo servo non sapeva nulla di tutto questo? Poco o molto. E il re disse, morirai sicuramente, Aimelec, tu e tutta la casa di tuo padre. Allora il re disse alle guardie che stavano intorno a lui, gira e uccidi i sacerdoti del Signore, perché anche la loro mano è con Davide, e perché sapevano quando è fuggito, e non me l'hanno detto. Ma. Così Doegle Domita si voltò e colpì i sacerdoti, e uccise quel giorno 85 uomini che indossavano un effod di lino. Anche Nob, la città dei sacerdoti, colpì a filo di spada. Uomini e donne, bambini e neonati che allattavano, buoi e asini e pecore, a filo di spada, 1 Samuele 22, 13 a 16. Lezione, la gelosia e il male, e nessun figlio di Dio dovrebbe permettere allo spirito della gelosia di possederlo. Lo spirito malvagio non aiuta nessuno, ma distrugge chiunque entri in contatto con essa. Chiunque si renda conto di una qualsiasi traccia di gelosia nella sua vita deve lottare per fermarla immediatamente. Ci vuole il potere di Dio per vincere la gelosia. E ogni figlio di Dio deve pregare per possedere questo potere. Tutti i figli di Dio non solo devono pregare, ma devono anche rifiutare di cedere alle tentazioni della gelosia. Tutti noi possiamo allenarci a condividere con sincerità i dolori, il dolore, la gioia e il successo con i nostri simili. Dobbiamo cercare di non comportarci in modo contrario ai sentimenti degli altri, sia che si tratti della famiglia, degli amici o dei vicini. In altre parole, dobbiamo essere felici quando le persone sono felici. E dobbiamo essere tristi quando sono tristi. Che Dio ci aiuti a possedere e a dimostrare uno spirito buono che il cielo ci loderà. Preghiera, caro Dio, ti prego, aiutami ad amare sinceramente le altre persone. Lascia che io sia felice quando loro sono felici, e lascia che contribuisca al successo delle altre persone. Non lasciare che io sia oggetto della caduta delle persone, ma il loro oggetto di sollevamento. Perché nel nome di Gesù Cristo, io faccio le mie richieste. Amen